E' tanto chiedere di dare un'occhiata alla mia macchina Forse è meglio che prima io dia un'occhiata alla scarpa, me la dia Sta scherzando spero Assolutamente no No, no, no! Devo scrivere un reportage sulla Mille Miglia La corsa più bella del mondo Mamma, guarda, c'è una ragazza che lo aspetta a casa E non mi sembra proprio il tipo che lo lascia uscire da solo la sera Grazie signora per l'invito Questi sono esattamente la metà dei pezzi di un'automobile A cosa stai pensando? Come sarebbe bello ricostruirla Sì, e magari correre la Mille Miglia Ma chi, io e te? Sei pazza? Stai lontana dalla Mille Miglia Ti piace? E' bella Per un po' di giorni sarà nostra No, io vorrei sapere perché non l'hanno fatta parcheggiare a mese Perché si presuppone che in quest'occasione tu stia con me e non con la macchina Qui, coppia a Cegova Il mio copilota sta sempre al cellulare Pronto? Ma vabbè, non ci posso credere, l'ha riagganciato E questo dove l'hai preso? In un vaso alla reception Possiamo fare una foto? Certo, aspetta un attimo Ecco qua Vai! Sinceramente noi volevamo solo l'automobile Appunto, dicevo, spostati Sarò quel piede che combatterò Per un sogno Per un ideale Ti porterò Fino in fondo Solo noi nel mondo E vincerò Con te Si ricorderanno di noi, vedrai